Numero 1. Socializzazione precoce. La socializzazione è un passo fondamentale nell'educazione di un cane per la convivenza con i bambini. Esponendo il cane a diverse situazioni e persone fin dalla giovane età, si contribuisce a farlo diventare un animale equilibrato e sicuro in varie circostanze. Questo è particolarmente importante quando si tratta di bambini, poiché il cane imparerà a comprendere e a reagire in modo appropriato alla loro presenza. Portare il cane in parchi, spiagge, passeggiate e luoghi frequentati da famiglie con bambini è un modo efficace per garantire una socializzazione adeguata. In questo modo il cane sarà meno incline a manifestare ansia o paura quando verrà introdotto nell'ambiente e domestico con i bambini.